Questi sono 10.000 euro di biciclette e oggi le regaliamo tutte Non ci posso credere Mi conoscete? No È tua la bici? No, serio? Un bel regalo di Natale, no? Mi conoscete? No Avete capito molto bene ragazzi Quelle che avete appena visto sono veramente 10.000 euro in biciclette Che andremo a regalare a dei passanti in giro a caso In realtà non totalmente a caso Bisogna avere solo un piccolo requisito Ma ci arriviamo con calma Tiriamo giù tutte queste scatole e iniziamo a montarle Che c'è un po' di lavoro da fare Qualcuno di voi si ricorderà sicuramente un video vecchissimo Dove avevo costruito un muro di scatole Per fare un mega unboxing E quel video era stato uno dei primi video da youtuber sul canale Oggi come allora ho ricostruito dietro di me Questo muro di scatole Tutto completamente rose Perché devo celebrare un momento assolutamente importante e storico Per la mia carriera e per il canale youtube Per chi non lo sapesse Rose è stato un mio sponsor Fin da quando ho iniziato a fare la teta professionista Esattamente 8 anni fa Queste sono esattamente 8 bici Che vogliono simboleggiare ogni singolo anno insieme Appunto a Rose Bike E qui però arriva un po' il tasto dolente Purtroppo la mia collaborazione con Rose finisce qua E lo saprete benissimo dal video tributo che ho realizzato su Rose sul canale Che se non avete visto vi lascio sempre qui in alto Sicuramente questo non posso dire che sia un momento felice Perché i miei rapporti con questa azienda sono sempre stati ottimi Con questo video ragazzi voglio togliermi di testa comunque tutti questi pensieri negativi E voglio veramente celebrare con voi questi 8 anni magnifici insieme a Rose E anche le persone di Rose Bikes hanno detto Toto dobbiamo fare qualcosa di sensazionale per questa notizia Perché noi come azienda vogliamo dare qualcosa in cambio a te e i tuoi follower Che ti hanno sempre seguito e ti hanno sempre sostenuto E qui nasce appunto l'idea di regalare queste 8 bici So che tanti di voi si chiederanno come mai si è interrotto questo rapporto con Rose Ve lo spiegherò assolutamente in un altro video sul canale Adesso godiamoci il momento Facciamo felici un po' di persone Ma prima chiaramente montiamo ste bici Ciao Rose Non preoccupatevi ragazzi queste bici non si rompono tanto No ragazzi ho appena tirato fuori questa bici e c'è una cosa che non sapevo Mi hanno dato la versione top Non è la versione base Mi hanno mandato quelle da 1200 euro Questa non me l'aspettavo Prime due bici montate Raga con queste siete veramente pronti a fare terse a venire al Monza Pizza Bike Raga bici montate e vederle così tutte assieme Cioè fa veramente gola E raga sono bici della madonna Come funzionerà questo giveaway tra virgolette In realtà non è un giveaway ma andrò in giro a caso veramente a regalarle a persone conosciute in giro Con un però L'unico requisito che dovrà avere la persona che fermo è che mi deve seguire su YouTube Quindi io fermerò la persona Controllerò immediatamente se mi segue su YouTube Bici a lui Fine Mi sarebbe piaciuto un sacco raga fare il giveaway classico su Instagram Fare l'estrazione e regalarla a chiunque Però purtroppo ragazzi la realtà in Italia di giveaway è ben più complessa Ragazzi siamo chittati per cercare di riprendere le vostre relazioni Per regalare tutte le bici in realtà abbiamo pensato di andare in dei luoghi che a me sono stati abbastanza significativi E il primissimo luogo chiaramente è dove c'è il park Il quartiere di Cederna Lei è la prima che andiamo a regalare Ciao scusa Mi conosci? Per quanto c'è sta? Sì esatto Mi segui su YouTube? Mi fai vedere? Vediamo Scusa e guardo perché devo controllare in diretta Ah sono sto accanto Ah cazzarola Peccato Peccato Era per un video sì Peccato che non mi segui perché avevi una grossa sorpresa Non ti posso dire che cosa però lo vedrai in un video Niente Bella grazie Ciao 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 Si quel povero ragazzo lì non mi se... mi conosceva Cosa gli costava seguirmi? Non gli costava niente? Invece purtroppo no Raga dovete iscrivervi al canale Vedete cosa vi perdete Ciao Ah sì mi conosci? Mi segui su YouTube? Fammi vedere sul telefono Sul telefono no Come sul telefono no? Tu controlla perché metti che mi segui c'è un grosso regalo Vediamo No Cazzarola non hai iscritto Come mai non sei iscritto dal telefono? Eh perché ho cambiato il telefono Ah cazzo peccato Grazie eh Grazie Ciao 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 Comunque ragazzi secondo me la bici che faremo più fatica a dare secondo me è proprio qui nel quartiere di Cerna Ciao Scusa posso dirti una cosa? Mi conosci? No Mi conosci? No Mi conosci? No Non ho la campanella No sei iscritta Sì Questa è tua Io non mi viene da piangere Io non so andare in bici Però va bene È tua Te la porti a casa Non ci posso credere Perché stiamo facendo un giveaway con Rose Se sei mio follower Abbiamo fatto un giro quacerata Abbiamo chiesto a due ragazze Hanno aperto il telefono Non mi seguivano Tu sei la prima che effettivamente ho chiesto Mi seguivi Sei iscritta È tua la bici Grazie Beh è un bel regalo di Natale no? Anche se magari non vai in bici Non fai dirt Se vuoi venire poi a provare in futuro al parco Sei qui dietro Così guarda Cioè è una Rose de Bruce andata Così Arrivati in Duomo raga Con un botto di gente Perché tra l'altro siamo sotto Natale Bisogna trovare le vittime giuste adesso Bella Vai vai Poi mi hai fermato per la foto Sei iscritta al mio canale? Sì Sucuro? Dal telefono no Dalla tre vicenda Controlla bene sul telefono Ah qui no eh Ti sei iscritto adesso? Eh grazie però No Non sei iscritto Vabbè ora Sì sì vai vai Ora sì Però se eri già iscritto Se eravate del fette Avete un grosso regalo Oh my god Niente bella raga Quanto cavolo si mangeranno le mani questi raga Quando guarderanno il video Che sono persi la bici Scusate Posso farmi una domanda? Mi conoscete? No Bella raga Posso farmi una domanda? Mi conoscete? Sì 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 Siete iscritti al canale? Sì Oh tu sei iscritto Oh tiisenza Dai È lui tua No ma intensitivo? Ma che cazzo sei iscritto? No Vabbè di lui che era iscritto Eri veramente iscritto Non l'hai schiacciato prima Ho proprio visto io in realtà Ho aperto l'app e l'hai iscritto Grande cazzo Bella Buon Natale Bella Ciao raga Ciao ciao Madonna raga che figata comunque Cioè al di là del fatto che vabbè Ha la reaction così Ma vedere le persone contente Cioè bisogna ringraziare Rose qua Che comunque ha messo a disposizione Ste 8 bici Ehi scusa te Piccolo stronzetto Mi segui su YouTube? Scusate posso farmi una domanda? Se volete non ve la chiedo la domanda Ma stai chiamando Ok mi conoscete? No Cioè se no c'era un grosso regalo Bella Ciao scusa posso farti una domanda? Non posso? Spagnolo No apre italiano Andate in bici voi Io vado in mountain bike Ah e sei iscritto al canale? Sì sono iscritto Vediamo Vediamo Eh te io ho chiesto a lui vediamo Hai iscritto? Prego Buon Natale No non sto scherzando eh Minchia senso No no veramente Te la porti a casa Te la porti a casa Basta Tutto lì Niente va va bella Un piacere Era inaspettata eh Non ci credeva lui Ciao raga Bella Bici in Duomo Completamente consegnate Adesso andiamo in un luogo Un po' più specifico Che il par di Seregno Bello consumato Facci vedere due Tre Hai detto che tu sei iscritto Fammi vedere Vai vai vengo lì io Vengo lì io Fammi vedere No Non è iscritto Non è logato Non è logato Non è logato Iscritto Hai iscritto Ma questa è tua Punto finito Sì No aspetta Mi sono bloccato È tua la bici Non ci credo Come mia Iscritto Eh no lui non ce l'ha qui Sì certo vai Grazie Bella Ora mi vedrai ogni giorno a Monza Pizza Vabbè oh buon Natale Grazie mille Niente bella No in realtà è uno scherzo È uno scherzo È uno scherzo Stanno scherzando Ti pare che regalino alla bici Non lo so È tua È tua veramente Stanno scherzando adesso Centro di Monza ragazzi Città Natale del Toto Non poteva mancare anche qui Un bel regalo di Natale Scusate Posso farvi una domanda Mi conoscete? No Le figure di merda sono all'ordine del giorno Scusate posso farvi una domanda? Mi conoscete? No Niente Se mi conoscevate Vabbiamo un grosso regale Niente Grazie mille Arrivederci Auguri a tutti Buon Natale Esattamente qui alla mia destra Voi non li vedete Ma ci sono due ragazzi Che ci stanno seguendo adesso Da un pochettino Che palesemente mi conoscono Secondo me Vediamo se si portano a casa la bici Mi conoscete? Sì Tu sei iscritto al mio canale? Vediamo Fa vedere Vediamo vediamo No non sei iscritto Aspetta scusa Tu sei iscritto? Sì Guarda c'è il mio account Lui è iscritto Tieni Buon Natale È tua No La porti a casa Te lo giuro Scommodiamo che vai a casa con questa bici Che ve l'ho detto Che dovete essere iscritti Beh la potete Anche tu sei iscritto La potete usare Uno se la porta a casa Ma la usate entrambi Cioè venite Venite al parque Un bel regalo di Natale No Bella raga Ciao Non so a me piace fare figure di merda Vedete quel gruppo di ragazze che ce l'ha Ecco Esattamente loro Adesso così In un gruppetto così chiuso Io andrò lì Chiaramente non mi conosceranno È ovvio che nessuno Però dobbiamo fare qualche figura di merda Ciao Scusate posso farmi una domanda Mi conoscete? No No io Nessuno Sì? Youtube Ok Siete iscritti al mio canale? No Bella grazie mille Pensavo peggio dai ti dirò Sì vai vai Mi sei iscritto al mio canale youtube? Posso vedere? Però devo vedere io Non devi Devo controllare Iscritto? Ah questa è tua Sono serio Sono serio? Regalo Bella Però devi usarla eh Zio è veramente tua eh Non stia scherzando Oh non venderla subito eh Usala un po' Ciao Ciao raga Bella Ciao raga Ciao ciao Prossimo bici ragazzi Siamo venuti avanti alla mia vecchia scuola Qui facevo geometra E mi sono diplomato da geometra Vi dico che è proprio una scuola di scimmie Scusa posso farti una domanda? Mi conosci? No Niente Mi segui su sei iscritto al mio canale? Eh no Tu sei iscritto al canale? Aspetta che ho chiesto a lui Vediamo se non hai iscritto lui Fa vedere No Te? No Sì Prego Questo è il tuo regalo di Natale È il tuo regalo di Natale Te la porti a casa? No non ci credo Non ci credo Sì bella Non ci credo No non so dirti male Bella Ciao Fa sempre un po' strano Perché ce ne abbiamo noi le bici Darle e vederle andare via Sembra quasi che basta Cioè te l'ha rubata Ragazzi abbiamo un'ultima bici C'è un'occasione un pochino particolare Parco aperto ragazzi Siamo in chiusura natalizia Sono appena entrati due ragazzi Uno dei due ragazzi però è arrivato senza il proprio genitore Dentro il nostro bike Purtroppo la prima volta senza il genitore Non si può venire È veramente sempre un dispiacere per non rimandare a casa la gente In questo caso non entrerà Non girerà oggi in parco Ma vediamo se è iscritto Secondo me se ne va a casa con la bici Non era iscritto Cioè quando vedrà il video si mangerà le maglie Io l'ho detto raga dovete iscrivervi al canale Bella la maglia Domanda però aspetta scusa Sei iscritto al canale? Sì devo vedere sul telefono Vediamo se siete veramente iscritti Ah ok perfetto Vediamo se hai fatto iscrivere tuo papà eh È iscritto Non girerai oggi al Monza Pizza Ma avrai un grosso regalo Prego È vero non stiamo scherzando eh Guarda sta firmando lui là Prova sali dai Un bel regalo di Natale dai No Cosa dici niente? È rimasto lì paralizzato Ultima bici è andata finalmente 8 bici regalate Un applauso per Rosa 8 anni di collaborazione con Rosa Sono stati veramente lunghi Però è stato veramente un piacere Collaborare con Rosa in questi anni Sicuramente tanti di voi Chiederanno spiegazioni a riguardo Ci sarà un video apposta Dedicato su questa cosa Un saluto a tutti i polli Che non erano iscritti al canale È rimasto lì data Ciao